Con i calciatori ad allenarsi in quarantena, i tecnici impegnati a studiare come tenerli in forma, i tifosi, sull'orlo di una crisi di nervi, gli unici che davvero stanno giocando partite intense dietro le scrivanie con guanti e mascherine sono i presidenti e gli amministratori dei club. L'Avellino, passato da poco nelle mani del gruppo D'Agostino, non fa eccezione in questo momento di coronavirus, in cui vanno limitate le spese e limitati i danni. Ecco perché il patron anche ieri è rimasto a lungo in riunione nella sua Montefalcione con i principali collaboratori per fare il punto della situazione, demandando al figlio Giovanni, amministratore unico della IDC, il compito di seguire gli sviluppi sul fronte calcistico, dove si è registrata la richiesta delle leghe di A e B di congelare gli stipendi di marzo ai calciatori. Con le inevitabili ripercussioni negative, generate dal blocco dei cantieri edili, che stanno scattando sul territorio nazionale, debbano ad aggiungersi ai mancati introiti sul fronte sportivo preventivati prima dell'acquisto del club e del resto. È naturale che pure il gruppo D'Agostino resti alla finestra, speranzoso di registrare anche in C il congelamento degli stipendi di marzo, sarebbero di circa 150.000 euro, da unire all'ottenimento di altre misure fiscali destinate ad alleviare le sofferenze di questi giorni. Il primo aiuto per il club Irpino, in tal senso, è arrivato dal decreto Salva Italia, che per i prossimi due mesi permetterà di risparmiare circa 19.000 euro di canone del partenio Lombardi, un bonus che chiaramente non basta per pareggiare i conti di una società, dove per adesso D'Agostino ha registrato, fin dal primo giorno, quasi sempre voci in uscita. Ecco perché l'amministratore Giovanni D'Agostino, insieme al manager Filippo Polcino, Nei prossimi giorni valuterà anche la possibilità di chiedere lo slettamento della quarta rata da versare al tribunale, di circa 148.000 euro per l'acquisto della società e dei 144.000 per canoni arretrati da corrispondere al comune, ereditati dalle passate gestioni. Anche in quest'ultimo caso il congelamento appare scontato, dal momento che va fatto un conteggio preciso, con i lavori che sono stati commissionati per adeguare il partenio Lombardi, di cui si è fatta carico alla società. Di fatto, tirando il conto in maniera sommaria, c'è quasi mezzo milione di euro di spesa, quindi, che la società proverà a congelare sotto l'effetto del coronavirus.